Allora sono qui in compagnia di questa bellissima ragazza, Gwendalina, io l'ho visto già ai tempi del grande fratello, mi piacevi tantissimo, complimenti. Allora senti, questa sera ho visto, festeggia l'anniversario, tu sei un nincona, diciamo, della moda, no? Perché tu puoi un po' avanti la moda. Grazie. Allora, cosa sta andando quest'estate? Come ci dovremmo vestire? Ma guarda, diciamo, cominciamo durante il giorno, ci sarebbero tante cose da dire, diciamo, se sei in barca, quindi conduci una vita molto da mare, allora guarda, basta poco, bastano qualche bella collana e un bel bichini e anche scalza, basta. Invece, quando scendi dalla barca, ti metti un bel sandalo basso alla schiava, con un pantaloncino, una canottierina e un, diciamo, un costumino. Poi arriva la sera, cominci ad incremare il tuo corpo con degli oli dorati che risaltano la tua abbronzatura, piede impeccabile, un bel sandalo e un mini abito, capello selvaggio e vai dove vuoi. Mi raccomando, seguite i suoi consigli perché lei è veramente un'icona glam, veramente fashion. Se ti sei vicino al tuo fidanzato o mai è tanto che state insieme, come sta andando la storia? Guarda, devo dire molto molto bene, festeggiamo due anni a luglio, quindi adesso, due anni devo dire magici, quindi io mi auguro che possano continuare. Progetti? In vista? Guarda, il Signore lo deciderà e noi saremo lieti di accettare qualsiasi cosa il destino ci possa mandare. Allora, ti ringrazio, buona serata. Grazie a voi.